portavo il giubotto, ero più libero però pazza, è umido non è che il sole, pazza è umido, quindi hai fatto bene, ti copriti bene quindi ti sicuro che a 15 anni non sei mai venuto qui? no, ho 40 anni mamma mia una roba così bella che sta qua proprio vicino però parcheggiando dove c'è l'ufficio, puoi fare una camminata, arrivi è vero, speriamo una più bella dell'altra non puoi male non puoi fare proprio la mia che non c'è niente perché non prendo niente lo prendo alla macchina certo sono terapegno non puoi non puoi non puoi non puoi Grazie a tutti. Grazie a tutti.